noi esseri umani come tutto siamo fatti di energia cioè siamo dei campi di forza niente più che dei campi di forza noi percepiamo un corpo consistente diciamo fatto di massa semplicemente perché il nostro cervello elabora le informazioni in questo modo e per il fatto che i nostri sensi sono approssimati molto approssimati rispetto alla realtà già se vedessimo la realtà con un microscopio vedremo una realtà completamente diversa e quindi crediamo abbiamo delle sensazioni fisiche ad esempio se uniamo le mani sentiamo una sensazione di contatto in realtà le due mani non sono in contatto perché si respingono prima di entrare in contatto dai campi di forza di energia elettromagnetica degli elettroni di una mano e dell'altra però noi abbiamo la sensazione di contatto in realtà non c'è nessun tipo di contatto da un punto di vista fisico direi ecco quindi che come campi energetici siamo soggetti a degli attacchi energetici che vuol dire delle interferenze con campi di energia negativi i campi di energia negativi sono dovuti ai pensieri alle emozioni anche pensieri ed emozioni sono forme di energia energia più sottile ma sempre forme di energia che possono interferire col nostro campo energetico e quindi è importante proteggersi da attacchi energetici negativi che possono essere messi in atto in modo inconsapevole da persone ad esempio sempre depresse sempre rancorose che trasferiscono osmoticamente le loro negatività oppure da persone che litigano litigiose violente che inconsapevolmente però per cui non per questo meno efficacemente trasferiscono negatività che si ripercuotono poi su noi stessi e poi ci sono bei casi invece in cui viene trasferita energia negativa in modo deliberato come ad esempio nelle nei rituali di magia nera per cui è importante imparare a difendersi imparare a proteggersi da questi attacchi di energetici negativi e il modo uno dei modi è quello di utilizzare di creare un'alleanza con una pianta le piante hanno un'aura un campo energetico che un po la protezione come se fosse l'atmosfera per per la terra molto forte molto potente molto vasto e sono degli esseri molto sensibili soltanto che non comunicano attraverso un sistema nervoso ma comunicano attraverso proprio i campi astrali i propri astrali che sono molto più potenti di quelli degli esseri umani le piante hanno delle forme di comunicazione sono stati fatti degli esperimenti anche molto sofisticati utilizzando proprio i campi energetici per cui se impariamo a creare un'alleanza un sodalizio con una pianta avremo un amico tra virgolette astrale molto molto potente in grado di trasferirci anche a distanze diciamo notevolissime la sua energia la sua protezione proprio astrale questo è diciamo è quindi importante creare proprio un'amicizia un sodalizio con una pianta soprattutto le piante ad alto fusto hanno dei campi energetici molto molto forti molto potenti e possono comunicare sono stati fatti esperimenti che piante in diverse parti del mondo hanno comunicato tra loro ad esempio per la presenza di parassiti di un nuovo tipo di parassiti nel senso che poi quando i parassiti sono arrivati in quest'altra area diciamo nella seconda area le piante erano già informate sono già messi in atto dei sistemi di di protezione hanno dei campi energetici veramente estesi veramente forti e in astrale sono degli esseri veramente sensibili e potenti anche per cui creare un'alleanza con una pianta che vuol dire creare un'alleanza con una pianta vuol dire scegliere una pianta specifica ad alto fusto e prendersi cura di questa pianta ma anche come dire passare del tempo tra virgolette entrare dentro il suo campo astrale abbracciarla tenerla presente si crea una sorta di amicizia di empatia di legame quello che in fisica quantistica viene chiamato entanglement e non dovremmo fare nulla sarà la pianta a proteggerci da attacchi energetici negativi e quando entreremo in contatto con lei siccome il campo della pianta è molto più potente purificherà subito basta abbracciarla e avremo il nostro campo energetico completamente pulito e purificato quindi avere per amico una pianta è molto è molto utile da un punto di vista energetico bene per questo video è tutto vi do appuntamento al prossimo vi invito a seguirmi sul blog http www.soluzionedit.com ciao